Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in questo video apri il baule magico in formato si che si sente, saluta ok ok, apriamo il baule magico vai apri, apri 1100 di uova apri te, dai dai, 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 dai dai, 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 dai dai, 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 dai dai, 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 dai dai non ci credo mi hai portato sfigo mi ricordo che i baule, i baule, i baule, i baule i baule, i baule ok vediamo vediamo ragazzi salvate il tutto salvate il suo occhio merita grazie clicca a te grazie e la figlia e i baule tutti si è salvati accertatemi di aver saluto no, può però io non c'ho te salvati ha preso un gran cavaliere stai registrando il video? si, ha registrato io ho preso il gran cavaliere l'ho preso io adesso stai mettendo un video? si infatti no voglio assolutamente provarlo io ma parliamo più alto se no non ti sento e la prof mi sente però vabbè vuoi fare le viso o prenderle note e fare le viso fare le viso ovviamente ma madonna mia ok dai mettiamo a caso dai però le pippe che vedrà ma dai ma il gran cavaliere porca messiera no no vabbè intanto no raga che gran cavaliere in classe cioè no in classe informatica però a scuola guardate mamma no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè raga allora se il video vi è piaciuto mettete like come vedete e iscrivetevi al canale ci vediamo stasera alle otte e mezza in live su mobile mobile legends no no guardate aspettate ok su questo gioco qua mobile legends no ci vediamo allora quindi otte e mezza live oggi ciao a tutti 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 ciao a tutti